Good morning a tutti voi e buona giornata. Oggi festeggiamo la solennità della natività di San Giovanni Battista, per cui siamo in compagnia di Luca al versetto, al capitolo primo, al versetto 57. Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto, diede alla luce un figlio. Vicini ai parenti udirono che il Signore aveva manifestato la sua grande misericordia in lei e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino. Volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria, ma sua madre intervenne. No, si chiamerà Giovanni. La storia di Elisabetta e di Zaccaria è qualcosa di incredibile, perché Zaccaria, ricordate, va nel Tempio, il Signore parla, lui dubita e viene ammutolito. E qui c'è una donna che prende posizione e dice no, il suo nome non sarà Zaccaria. Quando il Vangelo irrompe nella vita, rompe tutte le tradizioni. È un po' esagerato, ma diciamocelo ogni tanto, dai. Il Vangelo, quando arriva nella nostra vita, nelle nostre parrocchie, nella Chiesa, nel Vaticano, nella CEI, ovunque, rompe le tradizioni. Perché porta una novità. E no, ma dobbiamo dargli il nome Zaccaria. No, il suo nome sarà Giovanni. Ed è una donna a dirlo. È incredibile questo. Cioè, il Vangelo è così irruente da cambiare una tradizione e anche da farlo in nome di una donna. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse ed egli, e finalmente Zaccaria consente alla nuova parola, al nuovo regno di Dio, e quindi scrive su questa tavoletta Giovanni e il suo nome. Tutti furono meravigliati, eh? Non sia mai che si cambino le tradizioni. All'istante, però, gli si aprì la bocca. Egli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Perché quando noi seguiamo la parola evangelica e non le nostre tradizioni, ci si apre la bocca e noi prendiamo parola. Cioè, siamo nella condizione di dire delle parole utili al nostro tempo. Quanto ne abbiamo bisogno oggi di lasciarci alle spalle le tradizioni per vivere il Vangelo e quindi trovare parole nuove per dire al mondo di oggi Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore. Per tutta la regione montuosa si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo che sarà mai questo bambino. Fermiamoci qua. Le cose belle della giornata di ieri. Beh, è stato un weekend di pausa, diciamo così, nell'estate ragazzi. Anche se è stato un weekend con tanti incontri, con persone con cui ho parlato, discorso e a cui voglio molto bene. E per cui ringrazio per i legami che crescono nel tempo, ecco. Al di là del fatto che ci si veda o non ci si veda, ci si frequenti, no? Perché poi nella vita succede che, insomma, ognuno deve portare avanti le proprie cose, ecco. Però reincontrarsi con delle persone amiche, questo mi ha fatto molto piacere. E poi è stato un ottimo weekend di sport con la vittoria di Sinnera, ecco. Ale, buona giornata a tutti voi.